Sono Antonio Gargiulo, uno dei fondatori di Brutus, un marchio che sta facendo della pelletteria il suo fiore all'occhiello. Noi siamo un gruppo di appassionati di moda, di ricerca, di design abbastanza eterogeneo. Abbiamo mischiato le nostre passioni e competenze e professioni precedenti per arrivare a esprimerci per la prima volta nel campo della moda e con un nostro appunto neonato brand. Siamo molto legati al valore della materia prima, in questo caso della pelle, usiamo solo pelle conciata al vegetale. Anche i metalli, le metallerie sono super ricercate, solo prodotti made in Italy. C'è una grande ricerca da questo punto di vista, che parte sì da un'esigenza di design, ma poi si vuole confrontare con quello che noi avremmo voluto in termini di prodotto e di qualità senza mezzi termini, senza compromessi. Linea Pelle è un punto di riferimento per chi come noi lavora in questo settore, anche appunto in questi giorni noi siamo stati in fiera, abbiamo ricercato all'interno dei vari padiglioni, dei vari stand, quelle che sono le nuove conce, le nuove concerie che si approcciano verso progetti un po' più futuristici, un po' più avanguardistici, che non vuol dire per forza modernità estrema, ma a livello concettuale. Noi ad esempio abbiamo lavorato molto con le alghe, con l'ecologia del riciclo legata alla pelle, quindi c'è sempre la pelle come materia prima vera. Ad esempio anche gli pneumatici esausti, stradali, ma soprattutto del mondo racing dal quale proveniamo per la passione che abbiamo nel mondo dei motori. Sono idee nuove che abbiamo presentato appunto qui in questo spazio, Linea Pelle Designer Edition. Grazie. 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 Grazie.